Una sfida che unisce quella che si giocherà sabato 10 aprile allo stadio comunale di Mogliano Veneto tra la Nazionale Calcio TV e l'Art for Sport Team Mogliano. Fuori dentro il campo di gioco per tutto il pomeriggio sarà una grande festa dello sport, alla quale partecipano tutti, le società sportive della città, le scuole, le istituzioni e i più famosi personaggi della televisione e dello spettacolo. Uniti nello sport e nella solidarietà perché l'intero incasso della manifestazione sarà devoluto all'associazione Art for Sport Onlus che dopo il successo di partecipazione alla Family Run lo scorso ottobre promuove un nuovo evento benefico di festa e sport per tutti. Personaggi di Zeli, di Colorado Cafè, di Striscia la Notizia, quindi personaggi molto famosi, molto conosciuti per i quali vedo che i ragazzi veramente vanno, insomma sono molto eccitati di essere qua, anche perché l'animatore di questo evento odierno e della nostra festa sarà il Gabibo. Uniti nello sport nasce dalla storia di Bebe e dalla voglia di contribuire alla causa dell'associazione Art for Sport Onlus per l'acquisto di protesi sportive per bambini e ragazzi. Come sta Bebe? Bebe sta bene, ovviamente le sue attività le ha riprese tutte, non ultima la scherma che quando ci siamo visti ancora alcuni mesi fa era solamente una sfida, solamente una sua voglia di tornare a fare scherma. Insomma è riuscita a riprendere. Quindi Bebe apre la strada un po'? Bebe apre la strada, è il nostro primo progetto che sta avendo, è più difficile di quanto pensassimo perché purtroppo essendo il primo caso insomma non è così facile, si sono inventati delle protesi. Ruggero ricordiamo che queste protesi costano molto. Sì, questo è lo scopo della nostra associazione, riuscire a recuperare i soldi per queste protesi perché sono veramente estremamente costose ma soprattutto ogni pochi mesi vanno sostituite. Bebe è otto mesi che usa le protesi, ha già cambiato tre volte le gambe e due volte le braccia. Grazie. Grazie.